Da giovedì 8 a domenica 11 settembre nel cortile del maschio Angioino va in scena Ovico, la prima commedia di Raffaele Viviani, scritta nel 1917 e interpretata dalla compagnia di attori indipendenti con la regia di Nello Mascia e le musiche di Ciccio Merolla e Mariano Bellopede. Più che musiche faccio proprio una pulsazione che avviene dal vivo con i tamburi e poi faccio l'attore, ahimè, indegnamente su Viviani Ovico, è una cosa che mi prende moltissimo perché Viviani veramente, io che vengo dai quartieri spagnoli, scrive e mette in scena delle cose che rappresentano realmente la vita quotidiana che ci può essere in un vicolo ed è incredibilmente attuale, quindi sono ben felice che Nello Mascia mi ha fatto questo invito. È una storia ambientata in un vicolo napoletano, non a caso la presentazione dello spettacolo si è tenuta stamane in Vico Vacche a Saliborio nel cuore della città che vede i protagonisti di diversa estrazione sociale tutti alle prese con la ricerca di un posto di lavoro. Abbiamo voluto scegliere un luogo che fosse congeniale al tema che va in scena, cioè un vicolo di Napoli perché Ovico è stata la prima opera di Viviani e fu l'inizio di altri testi che attraversarono la Napoli di quegli anni, la Napoli tormentata, complicata, difficile, intorno al tema appunto della povertà, dell'ingiustizia, però anche della grande forza, del grande animo popolare. La rappresentazione si inserisce nel cartellone di eventi di estate a Napoli 2016 e vede tra gli altri la partecipazione di Franco Iavarone, Giovanni Mauriello, Giancarlo Cosentino, Rosaria De Cicco e Francesco Paolo Antoni. La bontà di Nello Mascia, io faccio niente meno che donna annunziata, sono onorata anche perché sono stata preceduta da nomi illustri e poi perché è un personaggio molto divertente. Viviani, di cui Nello è uno dei maggiori esperti come realizzazione, come regista e anche come interprete, Viviani va rappresentato in maniera, in questo caso, semplice, ma in maniera molto definita. E questa donna è un'usuraia, quindi un'usuraia deve suscitare una sensazione sgradevole, però è un'usuraia che ha avuto molti amanti, però adesso è innamorata. Naturalmente è innamorata di un guappo, del guappo del momento e lei è perdutamente innamorata, come può essere innamorata una donna però che ha quel background. Posso dire di essere fortunata perché in tutta la mia carriera non c'è mai stato un momento in cui non mi sono divertita e questa è un'occasione super perché ritrovare tanti amici, tanti compagni di lavoro a fianco ai giovani come Matteo Mauriello, come Masiello, a musicisti straordinari come Bellopede e Merolla. Insomma è la conferma che quando scegli questo lavoro fai bene a sceglierlo perché ti piace, perché certamente non verrai delusa. Siamo felici di questa scelta e credo che sia un bel viatico per lo spettacolo.